cari amiche e cari amici voglio darvi una bella notizia quando ieri ho pubblicato il video conversazione con la mendola subito appena pubblicato alcune persone sono venute a mettere i pollici giù senza neanche conoscere il contenuto del video e questi pollici giù erano arrivati a 24 pollici giù nel giro di breve tempo ho fatto un video ho invitato a riflettere a queste persone perché questi video provengono da un canale che fomenta odio contro francesco la mendola ho invitato a riflettere queste persone sul fatto che nel momento difficile dove ci obbligano ad andare in giro con le museruole dove c'è una diffidenza massima tra tutti quanti è bene invece portare dei segnali di pace e di conseguenza non contribuire a questa circolazione dell'odio perché se ognuno fa la sua parte tutti possiamo stare meglio e quindi cercare di recuperare un senso di solidarietà che ovviamente non comprende e non può comprendere l'odio la bella notizia qual è che i pollici che erano 24 sono diventati 8 quindi due terzi delle persone hanno accolto questo appello e questo lascia ben sperare il decimotoro continuerà con la sua impostazione legata a un rispetto per gli altri alla comunicazione alla pacificazione e come vedete è importante parlare alle persone e queste alcuni hanno ipotizzato del fosse stato l'algoritmo di youtube a mettere questi pollici giù ma no questo non accade i pollici li leva eventualmente youtube è capitato varie volte che leva i pollici su ma che mette i pollici giù non mi risulta altri hanno detto sono troll e invece la conferma che non sono né troll né youtube è stato dal fatto che i pollici da 24 sono diventati 8 io ringrazio veramente queste persone che hanno tolto il loro pollice giù che hanno compreso che era un frutto di odio e soprattutto che hanno compreso che in questo momento delicato beati i portatori di pace bene cari amici e cari amici mi fa piacere iniziare la giornata con questa bella notizia e oggi farò un'altra intervista e spero gradiate ma non ve ne parlerò perché è una sorpresa un caro abbraccio a tutti marco cosmo non ve ne parlerò perché è un caro abbraccio a tutti marco con questa bella notizia e non ve ne ritorni